Presidente, dunque il tempo stringe? Beh, stringe sì anche perché la mia esperienza mi insegna che gli eventi catastrofali hanno un risultato entro un mese massimo, altrimenti vanno nel dimenticatoio perché poi arriverà sicuramente qualche altro evento catastrofale, arriverà qualcuno che ha avuto qualche guaio e finisce che poi la partita dei Veneti, i Veneti sono bravi, si arrangiano, hanno avuto donazioni, vabbè ormai si sono dimenticati e noi non vogliamo che accada questo. Vogliamo 92 milioni di euro uno sopra l'altro direttamente per la riviera del Brenta.